Ciao a tutti youtuber, vi ho tanto rotto le scatole dicendo che le bizzarre avventure di Jojo sono in manga migliore e ho trovato qualche consenso, ma quando dico che Ryo Naroshima è il miglior personaggio non c'è niente da fare, deve crepare dicono tutti, guardatevi lo speedpaint Grazie a tutti 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 Grazie a tutti